Manu, aiuta! Scendi sempre! I ragazzi importavano è portiere. I ragazzi importavano è portiere o pare. In verde è Sporting, cambia colori, ci sono i rosso e i futsal. 1-0, 0-6. Fuzzata, hai seconda! In realtà potrebbero essere i primi perché gli manca una partita ancora da recuperare. Vada, vada! Vada, vada! Vada, vada, vada! Vada, vada! Vada, vada! Vada, vada! Così, altissimo! Ora gli arriviamo! Vada, vada! Calma, calma, adesso siamo giocati! Continua qui dietro! Vada! Vada! Vada, vada! Grazie a tutti. 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 Oh, qualcuno che è scorto? 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 Oh, qualcuno che è scorto?